Noi Italia di Valori appunto sosteniamo Giacchetti sindaco in quanto crediamo sia la persona giusta per stare a governare il Comune di Roma. Il Comune di Roma è grandissimo, ha grandissime problematiche e Giacchetti conosce il governo di questa città. Per cui pensiamo che i romani non debbano farsi raggirare dall'altra candidata ma che invece debbano credere in quello che Giacchetti può fare per Roma. Sicuramente troverà le soluzioni auspicate che tutti i romani vorrebbero avere.